287 positivi oggi a Francavilla al mare ma nelle ultime ore c'è anche il focolaio dell'Istituto Santa Caterina a sindaco a destare qualche preoccupazione. Eh sì perché proprio il focolaio di Santa Caterina ci ha fatto fare una piccola salita perché eravamo diventati più di 300 positivi. Eravamo in fase calante, in discesa con i numeri. Ora c'è stato questo focolaio di 13 persone, speriamo, ci auguriamo il meglio intanto perché sappiamo che il reparto interessato è quello dei lungodeggenti, quindi in sostanza persone un po' più sensibili, un po' più delicate e quindi speriamo che vada tutto bene insomma. Si sta facendo il massimo, anche una classe, notizia di ora, anche una classe andata in quarantena con 25 bimbi che sono stati isolati, una materna, quindi bambini senza mascherina purtroppo, a causa della positività di un alunno. Anche lì speriamo che non si sviluppino ulteriori focolai, la ASLA ha immediatamente isolato tutti i bambini, procederà ai tamponi, quindi insomma si sta facendo il massimo. Però aspettiamo, non vediamo l'ora che arrivino questi benedetti vaccini che ci possano consentire di riprendere una vita normale. La questione vaccini è che leggevo ieri sul web, ahimè, l'Abruzzo come ultima regione in base alle percentuali dei vaccini erogati. Io mi auguro che ci sia un cambio di direzione, che si possa iniziare una vera e propria campagna vaccinale di Vassa. Io capisco, non voglio dare in testa a nessuno, capisco che questo dipende dalla quantità dei vaccini che vengono forniti dallo Stato centrale, però leggere che l'Abruzzo è una delle ultime regioni in ordine a percentuale mi dispiace, mi dispiace molto.